Ave, mi trovo a dover commentare la scomparsa, anzi la morte, di Tom Brains a 52 anni e prima che chiaramente gli esperti di bodybuilding ma soprattutto di salute arrivino. Pare che la sua scomparsa sia dovuta al cancro, cioè così alcuni dicono ma non è confermata, però il discorso è che lui aveva dei problemi ai reni, insufficienza renale che hanno portato a ritirarsi dal bodybuilding nel 2002, come vedete qua diventato professionista nel 1997 vincendo gli NPC Nationals E poi il suo miglior piazzamento è stato il terzo post al Night of Champions del 2001, l'attuale New York Pro. Lui si è dovuto ritirare per problemi ai reni, insufficienza renale e poi ha avuto anche un altro trapianto di reni e a quanto pare lui soffriva di una malattia genetica, almeno così, dice in un'intervista con Sean Ray, che vedete è quella da cui ho preso questo screenshot Se lo cercate la trovate Quindi lui dice che il motivo per questi sui problemi in salute sono genetici dovuti a una malattia che aveva già da prima di iniziare a fare il bodybuilder Poi Sean Ray gli dice ma com'è possibile tutti voi che violenavate con Chad Nichols, l'attuale preparatore di Big Grammy per la cronaca E preparatore all'epoca di anche Ronnie Coleman e di altri Avete avuto tutti questi problemi, questa è la routine che gli ha fatto vincere gli NPC Nationals del 1997 per la cronaca E lui invece dice che non pensa che c'entri niente con Chad Nichols, con diuretici, con steroidi eccetera 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 Quindi non lo so, io tendo un po' a fidarmi perché se una persona comunque ha un trapianto di reni Scopre di avere una malattia genetica, anche quando ha il trapianto di reni comunque perde anche il rene nuovo Tendo un po' a fidarmi, se no penso che avrebbe detto tranquillamente che è colpa degli steroidi Però penso che nei commenti ci sia qualcuno più preparato di me E questo video si ricollega un po' a quello che ho fatto sabato anche su Chris Cormier Perché ho parlato di come fossero competitivi gli anni 90 e i primi anni 2000 Che chiaramente non ha guardato nessuno Penso che questo video verrà guardato da più persone perché alle persone come sempre non interessa il bodybuilding Interessano queste notizie qui per poter fare gli esperti nei commenti Però questo è uno dei motivi per cui il bodybuilding non avrà mai seguito in Italia Perché interessa solo questo tipo di video Purtroppo è chiaramente io parlo di bodybuilding a 360 gradi Quindi commento sia i video tipo quello che ho fatto sabato su Chris Cormier che non ha guardato nessuno Così come questo video sulla morte di Tom Prince Che dopo il ritiro si era concentrato sul mercato immobiliare Praticamente facevano più o meno gli amministratori di condominio con la moglie Una società di management di immobili Ed era secondo me un ottimo bodybuilder Ed è sempre il solito discorso Gente che gareggia negli anni 90 inizio 2000 Oggi secondo me sarebbe davvero molto molto cazzuta Nelle line up che vediamo nei contest Un bodybuilder molto completo Senza grossi punti deboli E mi chiedono spesso perché la qualità di bodybuilder si è abbassata oggi Questa cosa ho detto a 10 miliardi di volte Il motivo è semplice Se un Tom Prince per diventare professionista è dovuto arrivare secondo negli anni 90 Dietro Greg Titus, agli MPC Nationals, dietro Jay Cutler E poi ha vinto gli MPC Nationals nel 97 La gente oggi diventa bodybuilder professionista Anche arrivando seconda o terza in show del cavolo Perché danno più pro card E questo è il discorso Prima davano meno pro card Ne davano magari 2-3 all'anno Agli MPC Nationals Agli USA Come si chiama? Agli USA Championships mi pare E a qualche altro show Adesso ne danno molte di pro card Prima c'erano meno pro card Di conseguenza emergeva la crema Va da sé Questa è una routine del 96 Che secondo me è superiore rispetto a quella del 97 Forse anche la questione di luci Cioè Davvero un bel bodybuilder Dispiace che abbia avuto questi problemi Come detto La notizia della morte per cancro Non è confermata Però L'hanno detta un po' di persone Quindi Sono ipotesi Però va da sé Che aveva dei problemi Ai reni È rimasto in dialisi Per tantissimi anni Se capite l'inglese Guardate quell'intervista con Sean Ray Perché è molto interessante Poi ce ne sono anche con Dave Palumbo su RX Muscle Quindi Questo è giusto un saluto Un commento da parte mia Perché io comunque commento il bodybuilding E mi dispiace Che questi video attirino più Rispetto agli altri che faccio Tipo quello che ho fatto sabato Non per farlo vedere Ma perché è così Buona Buona